Noi però pensiamo che da qui a dieci anni, in presenza di obiettivi strategici, la fusione sia quell'elemento che ci possa permettere di portare avanti politiche nuove e di investimento. Cioè al di là di quello che è un tema di riorganizzazione sui territori circostanti, aprono i caselli dell'autostrada, aprono grandi imprese, cioè c'è un tema di riorganizzazione e di investimento che noi dobbiamo considerare pienamente. Poi chiaramente chi vincerà le elezioni non ci interessa, cioè il tema è quelli che sono gli obiettivi strategici di medio-lungo periodo. Perché vi dico, la nostra Unione vive un momento in cui, diciamo, al di là del confronto anche dialettico che c'è tra i sindaci, la coperta si stringe, si stringe sempre di più. Quindi, in un'ottica, noi rischiamo di diventare un ente di sola gestione e sola gestione vuol dire senza la capacità eventuale di investire in politiche nuove. Ripeto, e voglio sottolinearlo e poi concludo, così sono anche più rapido perché se no noi ci addormentiamo. L'obiettivo finale non deve essere la fusione, anche all'interno del dibattito. Cioè la fusione porta con sé semplificazioni, trasformazioni, velocizzazioni, ma è uno strumento con cui noi dobbiamo realizzare degli obiettivi che dobbiamo costruire tra di noi, sicuramente, nel mondo istituzionale, ma in contatto costante con la cittadinanza organizzata, volontariato, associazioni di categoria, imprese, tutto il mondo della società organizzata, sostanzialmente, e i cittadini in generale. Perché altrimenti il dibattito resta nel comitato del no, no perché altrimenti uno diventa la mini provincia dell'altro, ossia anche dall'altra parte perché va fatta. Quindi il ragionamento non è questo, noi lo poniamo in questa ottica qua. Cioè quindi il tema, chiaramente, è complesso, però il nostro obiettivo, il nostro focus è in questa direzione. La fusione per noi rappresenta un elemento strategico per il futuro del nostro territorio. Grazie. Qualcuno vuole prendere la parola? Passo la parola al consigliere Minozzi. Tutti, perché pensavamo, pensiamo, e io penso, che sia importante capire che cosa vuol dire una fusione tra comuni. Penso che questo fosse condiviso anche dal PD. Mi fa piacere sapere che il PD ha questa posizione. Al sottoscritto si può ascrivere qualsiasi cosa, ma non sul fatto che non fosse profondamente convinto di questo studio di fattibilità. Non a caso, voi sapete, io ho avuto la delega del sindaco e poi il sindaco era sempre presente, quindi questa delega non è stata utilizzata. Avevo la delega del sindaco per partecipare all'incontro dei sindaci sull'organizzazione dello studio di fattibilità. Numero di protocollo, numero di corto, però lo potete rintracciare quando volete. Quindi al sottoscritto che qualcuno definisce ancora l'ultimo dei meicani della fusione, impropriamente, mi fa piacere, dice, a qualcun altro che la pensa così. Abbiamo fatto questo studio di fattibilità, secondo me, per una ragione. Altrimenti, potevamo tranquillamente dire, io sono favorevole, io sono contrario, e poi lì facevamo tutta quanta la discussione. Così come io non condivido assolutamente i comitati per il no, perché anche questi sono frutto di un ragionamento ideologico. Nel senso che dicono no perché è una serie di motivi. Ma lo studio di fattibilità dovrebbe aiutarci a comprendere un attimino meglio. Così non capisco in questo momento l'accelerazione del PD su questo argomento. Perché è vero che i risultati di Nomisma dovremmo discuterli con i cittadini, è fondamentale. Ma non solo. Mi fa piacere sapere e cominciare a sentir dire anche il PD che l'Unione ha dei problemi. Se voi parlate con il Vice Presidente dell'Unione, non esistono, anzi, il bilancio è il migliore che si potesse fare. Voi siete presenti nell'Unione. Il bilancio è stato approvato senza problemi. Anzi, si c'è molto arrabbiati perché qualcuno ha osato astenersi per mettere i puntini sugli i per cominciare a dire che il bilancio si deve fare in maniera diversa. Quindi, se permettete, vorrei che le dichiarazioni che qui vengono fatte fossero poi riportate anche nell'Unione. E non si dicessero cose completamente diverse. Tornando al punto di partenza, è questo. Io sono convinto che lo studio di fattibilità ci darà comunque degli elementi per ragionare. Ci darà degli elementi che in tutti i casi, per i tempi che eventualmente la discussione su questi risultati portati nei vari comuni e per noi nel Comune di Vignola, in vari momenti successivi alla gente, non avrà tempi sicuramente limitati. E' vero che noi ci dobbiamo porre un problema, quello di come gestire questo territorio nei prossimi anni. Questo io ne sono profondamente convinto, ne sono profondamente convinto e quindi penso che già sarebbe un ottimo risultato se riusissimo a far funzionare l'Unione. Sarebbe già un ottimo risultato intermedio. Poi dopo si vedrà che cosa succederà. Quindi onestamente, ripeto e torno dall'inizio, non capisco i comitati del no. Non li capisco e non li approvo. Non capisco questa accelerazione da parte del PD, che può aver fatto delle scelte al suo interno, che io rispetto, così come è giusto che sia assolutamente, però non riesco a capire questa accelerazione. Io non sono maligno, ma c'era un vecchio politico che diceva che pensare male si fa peccato, ma forse si ci prende. Probabilmente non è così. Un momento come questo, con le polemiche che si sono viste sui giornali, poteva essere occasione buona per Andreotti. Noi siamo abbastanza vecchi per sapere chi era. Forse qualche giovane può darci... Eh? Sì. Detto questo, io penso veramente che in un momento come questo, nonostante io sia davvero convinto che una soluzione va trovata, per questo territorio, per gli anni futuri, sono convinto che in questo momento portare la discussione senza elementi, quindi con un fatto preconcetto, o sì o no. Io, quando c'è stata la discussione, ho sempre cercato di dire, signori, un fatto ideologico per il sì o per il no è fondamentalmente sbagliato. Usiamo i dati che ci vengono dati. Abbiamo speso dei soldi, parte nostra, ma soprattutto della Regione, per capire questo. Perché? Perché ci sono un'altra serie di ragionamenti che noi dovremmo chiedere alla Commissione, che secondo me sta lavorando anche molto, molto, molto bene, con un ottimo presidente, e questo gli va riconosciuto, a onore del vero, perché è riuscito, nonostante le sue idee, a fare il presidente della Commissione, cosa non facile, che non sarei mai riuscito a fare. Devo essere molto, molto sincero. E lui è riuscito, effettivamente, ad essere imparziale e riuscire a fare quello che doveva fare. Quindi, onestamente, se non capisco il no, non capisco il perché adesso questo tipo di posizione. Quindi io vi preannuncio, così tagliamo corto, che il nostro gruppo voterà contro. Voterà contro perché vogliamo che ci siano i dati di Nomisma per fare ragionamenti, per cambiare le cose. Grazie. Passo la parola al sindaco. Ah, al sindaco allora. No, così ho la possibilità di replica a Giancarlo. Beh, credo che questo ordine del giorno non sia condivisibile e provo a spiegare perché. Anzi, mi dispiace che, come più volte ha sottolineato il segretario del partito, non so perché, che sia stata una scelta unanime all'interno del PD. E mi riferisco ai considerati. Si dice, nell'ordine del giorno, che il nostro Paese sta attraversando un importante processo di riforma istituzionali a livello nazionale. Il riassetto territoriale, che vedrà il superamento delle province, la nascita delle aree vaste, sarà uno snodo fondamentale per lo sviluppo del territorio. Ora, per chi, come me, pensa che la riforma istituzionale, che è in atto, non sia affatto un importante processo, ma che sia un eccesso, così, di protagonismo del Presidente del Consiglio, il quale non si rende conto che certe riforme, poi, una volta approvate, possono essere usate anche quando non ci sarà più lui, quando ci saranno altre forze politiche. E per chi pensa che la riforma delle province sia una delle riforme peggiori che sia stata messa in atto da quando c'è la Repubblica in Italia, perché di fatto ha distrutto un ente che funzionava per creare un vuoto normativo, i soliti slogan renziani, no, aboliamo le province, poi non si sa bene cosa vuol dire questa provincia. E questo è un giudizio che è largamente condiviso, non è nemmeno una posizione estremista, anche nel mondo giuridico, nel mondo accademico, largamente condiviso, ma molto largamente, è chiaro che non può essere accettato un capoverso di questo tipo. E vi invito a riflettere anche sull'altro capoverso, quando si parla del Mineromani del Presidente Stefano Bonacini. In realtà non è così semplice, non è esattamente così la situazione, perché anche la Regione sta riflettendo molto sull'impulso iniziale che è stato dato alle fusioni tout court, senza tener conto dei problemi che possono comportare le fusioni. Quindi è molto semplicistico scritto in questo modo. Il considerato inoltre poi è assolutamente falso, perché scrivere che il Partito Democratico di Vignola ha sempre posto la prospettiva della fusione tra i Comuni come prioritaria nella propria strategia è una falsità, perché in realtà forse l'avrete pensato un mese fa, una settimana fa. Non so se dopo la pubblicazione sul giornale non mi interessa, ma negli anni passati assolutamente il Partito Democratico di Vignola ha posto la prospettiva della fusione come priorità della propria strategia. Tant'è che a livello di unione soltanto il povero Umberto Costantini ha portato avanti questa prospettiva, non certamente Vignola. Poi qua manca, anche se è stato in qualche modo detto tra le righe da Federico Clò, un elemento fondamentale che dovrà stare dentro un eventuale processo di fusione che semmai verrà avanti. Quello dei cittadini, qua non c'è scritto che la fusione potrà avere effetto soltanto se i cittadini dei Comuni che partecipano a questo processo sono d'accordo. Questo è una discriminante importante e anche su questo, nonostante qua c'è un motivo di dissenso col Vice Sindaco, nonostante la Regione abbia respinto le proposte del Movimento 5 Stelle e anche della Lega Nord, forse perché venivo dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega Nord, c'è una riflessione, perché non tutti sono d'accordo nella Regione, in Regione, che la fusione possa andare avanti anche in caso di dissenso di uno o più comuni. E noi, cioè noi, io parlo personale, non sono assolutamente d'accordo. Un eventuale processo di fusione potrà avere effetto solo se i cittadini, tutti i comuni che partecipano alla fusione, saranno d'accordo. Quindi credo che il contenuto di questo ordine del giorno, parte mia, non sia assolutamente condivisivo. Passo la parola allora al Consigliere Gasparini. Grazie, Presidente. Io, l'ho detto più volte, lo ripeto, il massimo rispetto istituzionale nei confronti del Sindaco. Tuttavia, vorrei porre alcuni elementi di dissenso rispetto a quello che lui ha espresso. Sulla condivisione, una larga parte del mondo accademico condivide, che ha detto il nuovo assetto istituzionale proposto. Credo che ci sia un altro attettanto considerevole fetta di persone che condividono invece la proposta del nuovo assetto istituzionale che ci siamo dati. Certo, sulle province effettivamente non è stato fatto un lavoro efficace. Tuttavia, bisogna ricordare che in precedenza qualche altro governo aveva proliferato un po' troppo sulle province. Alcune province probabilmente avevano avuto un tipo di gestione, diciamo così, non propriamente economica della loro efficacia.